Domani è una partita importante sotto l'aspetto di determinazione e motivazionale perché andiamo in un ambiente dove troveremo sicuramente non un bellissimo ambiente quindi ci dobbiamo far trovare con la squadra più forte anche fisicamente perché poi pioverà tutto il giorno anche se è sintetico quindi ci dobbiamo presentare con una squadra forte anche fisicamente quindi le valutazioni saranno fatte anche in base a questo oltre al fatto che veniamo da martedì secondo me da una buona reazione della squadra dove mi ha dato veramente tante risposte continuare su quella strada mettendoci magari qualcosina in più perché abbiamo perso vuol dire che non eravamo perfetti al massimo dobbiamo migliorare quello che abbiamo fatto martedì cercando di andare a fare una battaglia cercando di portare a casa il risultato perché in questo momento è la cosa più importante io rifarei tutto quello che ho fatto ma lo dico con la massima umiltà perché la prima settimana è stata sotto l'aspetto di allenamento motivazionale e stupenda perché ho avuto disponibilità dei ragazzi veramente molto bella allenamenti molto belli poi sono arrivato a sabato prima della partita ho cercato di cambiare il meno possibile anche se mi è stato imputato che ho cambiato tutto penso di aver cambiato pochissimo anzi forse l'errore è che dovevo cambiare forse di più però non mi è sembrato di aver cambiato o stravolto una squadra poi pensando perché io non dormo per questa squadra secondo me in questo momento bisogna essere compatti bisogna dargli una compattezza importante secondo me il modulo che stiamo facendo adesso è che diventiamo una squadra più quadrata la partita ieri sera l'ho vista ma non è che se vinceva il Cesena ci cambia noi dobbiamo tornare a fare il risultato noi perché poi fare il risultato significa ricreare autostima nel giocatore sotto pressione nemmeno perché quando fai il lavoro ci metti tutto te stesso e hai dietro dei ragazzi che ti stanno seguendo e che ti hanno dato grande disponibilità non mi sento sotto pressione ma nemmeno sotto esame perché credo che in otto giorni abbiamo fatto un bel lavoro però è logico che ci vuole risultato nel calcio ci vuole risultato non è che si scappa però la pressione è mediatica perché già mi dite che sono sotto esame è mediatica ma quello ci sta ma io me l'aspettavo pure perché non è che sono di Pescara e c'avevo degli sconti assolutamente però sembra che delle volte la responsabilità di questo momento è tutta di Massimo Epifani va bene andiamo avanti così io lavoro con testa alta posso guardare sempre tutti negli occhi in questo momento se devo essere il capo io a prendermi la responsabilità me la prendo così i giocatori sono più liberi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti